Benvenuti al nostro TG Sport cari amici di Telemolise per il calcio di Serie D prova di forza per il Campobasso contro il Riccione domenica Mala invece per Termoli e Vasto Girardi l'FC Matese è tornato a sorridere battendo il notaresco Compito assolto a pieni voti per il Campobasso i Lupi avevano l'obiettivo di tornare al successo dopo tre pareggi consecutivi vittoria convincente con il Riccione 3-1 senza storia a Selvapiana la squadra ha interpretato nel migliore dei modi il match approccio vehemente pressing altissimo e una pressione che ha portato ad un doppio vantaggio al termine del primo tempo premiate le scelte di Pergolizzi che ha optato per un giocatore di qualità in mezzo al campo come De Cerchio risultato tra i migliori in campo il luogo di un senior in difesa Gonzales in particolare contro un avversario quale Riccione in crisi di risultati una condizione che avevamo auspicato la scorsa settimana e che ha trovato pieno fondamento nella gara di domenica al Molinari bene così prestazione collettiva di assoluto livello primo centro con la maglia del Campobasso per Romero gran gol per il centroavanti che trova maggiore fiducia in vista del finale di stagione da oggi parte la settimana per la sfida prevista a Riviera delle Palme contro la San Benedettese una gara importante al pari delle altre in programma sino al termine della stagione i lupi mantengono il vantaggio di 4 punti sull'Aquila un margine importante a questo punto della stagione certo ci sarà da soffrire poco ma sicuro ogni gara nasconde delle insidie come predichiamo da tempo bisogna pensare step by step il prossimo si chiama San Benedettese i marchigiani sconfitti allo stadio Gran Sasso hanno detto di fatto addio ai sogni Lega Pro 8 punti dal Campobasso 4 dagli Aquilani insomma per la San l'appuntamento alla Lega Pro è rimandato al prossimo anno salvo cataclismi in vetta alla classifica detto questo i rosso-blu di Lauro giocheranno al massimo al cospetto dei lupi di Pergolizzi per una serie di motivazioni la classifica la voglia di rivalza dopo la sconfitta dell'andata un match che non è andato giù in particolare al presidente Massi che a mesi di distanza ancora rivanga la mancata concessione di un penalty in favore dei suoi ed il fattore casalingo atteso Riviera al massimo della capienza motivazioni su motivazioni per un big match che promette scintille a proposito dei biglietti riservati alla tifoseria del Campobasso dobbiamo dire che questa mattina l'orientamento è quello di concedere solamente 150 biglietti in più proprio per la tifoseria rosso-blu la notizia non è ancora ufficiale ma gli organi preposti vanno verso questa scelta che dunque aumenterebbe di poco la capienza del settore ospiti battuta d'arresto per Termoli e Vastogirardi per i giallorossi la sconfitta di Chieti ci può stare i teatini sono la squadra più in forma del girone F certo le due espulsioni andavano evitate Uzzol ed Esposito mancheranno nello scontro diretto con il Monte Rotondo in programma domenica al Cannarsa una partita fondamentale per la salvezza della squadra di Carnevale pesante invece lo stop del Vastogirardi ad Ascoli 3 a 1 per i bianconeri con i morisani raggiunti dal Fano ed in ritardo anche sul fronte sbarramento oggi il Vastogirardi sarebbe in eccellenza una condizione da evitare in queste ultime quattro gare domenica Alditella la sfida con l'Aquila rappresenta uno spartiacque decisivo per Ruggeri e compagni costretti a muovere la classifica contro un avversario nettamente superiore infine buona vittoria per il Matese contro il Notaresco e Biancoverdi domenica Riccione si giocheranno le residue e chance per agganciare play out una gara che può riaprire un esito che sembrava già scritto per la società di Piedimonte Matese Il Rosso Bluto dopo tre pareggi consecutivi sono tornati alla vittoria di fronte a 4.100 spettatori che hanno riempito lo stadio Molinari in proposito la nostra truppa ha realizzato una clip di Piedimonte Matese di Piedimonte Matese di Piedimonte Matese di Piedimonte Matese e di Piedimonte Matese Grazie a tutti. 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 Vole di serie B. Dopo aver messo in bacheca la Coppa Italia, l'Energy Time ha consolidato il secondo posto in campionato imponendosi nettamente sul Marino. Allora, siamo con Mattia Minuti e Giuseppe Facelli. La Spike riprende il campionato nel migliore dei modi vincendo 3 a 0 contro Marino. Sì, abbiamo ripreso il campionato dove l'avevamo lasciato perché siamo entrati in campo con la voglia di vincere, abbiamo dimostrato e abbiamo mantenuto il ritmo a nostro favore e abbiamo portato a casa un 3-0 importante. Era importante riprendere perché sono stati due giorni impegnativi quelli della Coppa sia a livello fisico ma anche mentale? Sì, soprattutto a livello fisico siamo stati molto impegnativi, infatti siamo un po' acciaccati però dobbiamo subito riprendere le energie per le prossime due partite. Play-off conquistati matematicamente? Sì, puntavamo a vincere proprio per questo, ormai abbiamo messo in cassaforte questo obiettivo e ora daremo tutto e per tutto per puntare lo sprint finale. Bisogna concludere il campionato e poi c'è sempre lo scontro diretto contro il Genzano in trasferta. Sì, aspettiamo da molto questo scontro diretto, infatti ci stiamo preparando proprio da quello, però pensiamo prima una partita alla volta per poi andare a prenderci quei tre punti a Genzano. Ecco, possiamo fare sicuramente un bilancio? È stato un campionato super positivo ovviamente per voi? Sì, sì, sì. Abbiamo fatto fino ad oggi un campionato, mettiamolo così, quasi perfetto, a parte un paio di scivoloni che però fanno parte del percorso, quindi a mio parere niente di cui lamentarsi. Sarà importante poi mantenere il ritmo anche perché adesso considerando anche il turno di riposo ci saranno tre gare fuori casa. Sì, ma noi siamo decisamente pronti a questo, lo sappiamo, quindi ci stiamo preparando bene bene bene. Per quanto riguarda questo nuovo look? Scommessa, diciamo una scommessa persa, tra virgolette, però ne è valsa la pena, dai diciamo. Comunque colgo l'occasione e invito tutti i tifosi che la società farà partire un pulmino dal campo basso per le trasferte che avremo nelle prossime giornate, quindi chi vuole venire a sostenerci in trasferta è il benvenuto. Muntan Bike, la Molise Cycling Team è stata protagonista a Scerni nella prima gara del circuito sulle Orme dei Sanniti. In Abruzzo il migliore della società molisana è stato Stefano De Angelis, diciottesimo assoluto e quinto di categoria M2. Bene si sono comportati anche Fabio Madonna, Alex D'Alessandro e Lino Cardillo. Torniamo a parlare di calcio, questa volta ad eccellenza, ritorno in campo dopo la sosta. L'Iserni ha ottenuto la vittoria numero 22 in campionato. Antonio Silvestri, direttore sportivo del Città di Serni, a macchina da gol che non si inceppa, genera il ventiduesimo successo in campionato, proprio alla vigilia dello scontro diretto con l'Aurora Alto Casertano. La gara d'andata con il Campomarino aveva insegnato molto sulle difficoltà di questo campionato, ma sicuramente un buon approccio, un'ottima condizione fisica ha permesso di riemergere nuovamente. Sì, questo è verissimo. Noi dopo quei due scivoloni che abbiamo avuto precedentemente, dopo comunque ci siamo ben ripresi, ne siamo usciti e stiamo andando benissimo. La condizione fisica è ottimale, i ragazzi si allenano bene durante la settimana e poi si vede in campo la domenica. Adesso c'è la partita decisiva sulla quale ruota il campionato, comunque c'è stato questo testa a testa da inizio campionato e non c'è miglior modo per vedere come andrà a finire. Vi presenterete con un ottimo billetto da visita, capolista con due punti di vantaggio e due risultati su tre a disposizione. È vero questo da un punto di vista numerico e tutto, però non bisogna ragionare con i due risultati su tre, bisogna fare la partita come tutte le domeniche e bisogna dare il massimo senza iniziare a fare i conti e tutto quanto. Questa sosta, insomma, avete avuto dei giocatori con la rappresentativa molise, vi è stato tributato un altro riconoscimento come società dalla FIGC proprio per quel che riguarda appunto gli juniores? Assolutamente, diciamo, il parco giocatori, soprattutto per quanto riguarda la cantera, è ottimale, ce ne sono stati tanti che comunque sono andati in rappresentativa, hanno fatto bene, ne sono usciti bene. Poi si vede anche la domenica qui con noi, che comunque in prima squadra ce ne sono parecchi di loro, tra i vari Ercolano, Valentino, anche comunque del Bianco che non è stato chiamato, però comunque diciamo sono alcuni dei migliori under che comunque ci sono nella regione. Grazie all'affermazione sul Venafro, il Termoli 2016 tiene vive le speranze di evitare la retrocessione diretta. Andrea Impicciatore, due gol a frutto di una grande concentrazione, eravate stati caricati a mille prima di scendere in campo perché la posta in palio era importante, ce l'avete fatto, una vittoria importante soprattutto che vi rilancia e lascia aperta una parte, una parte di una porta. Sì, sì, diciamo che era l'ultima spiaggia quasi e quindi abbiamo dato tutto, tutto quello che avevamo e fortunatamente siamo riusciti a portare i tre punti a casa, però anche con tanta grinta perché i ragazzi ce l'hanno messa tutta e abbiamo fatto vedere chi siamo veramente perché vincere col Venafro, che è una signora squadra, fa capire che noi non meritiamo di stare là sotto. La freddezza tua nel primo gol, quando ti sei presentato tu per tu con Roncone, hai cercato anche di sfidarti, facevi passi indietro però alla fine gliel'hai piazzata. Sì, sì, Roncone è un grande portiere di categoria e sì, sono stato là, sono stato freddo e per fortuna l'ho messa dentro e quindi speriamo che domenica prossima anche va a finire nello stesso modo. Vogliamo parlare del grande attaccante nel secondo gol, là ti sei liberato in maniera veramente incredibile e l'hai piazzata sul palo dove lui non poteva proprio arrivare. Sì, sì, sono contento davvero per i due gol, però sono contento soprattutto per i tre punti della squadra perché se lo meritano tutti i ragazzi, nonostante comunque ci arriviamo su un campo che non rispecchia le nostre qualità, però facciamo quello che ci danno a disposizione e quindi continuiamo a far bene. Ora andiamo a Campomarino e vediamo come va. Derby sabato prossimo, una gara incredibile per la salvezza. Sì, sì, Campomarino è tosta, Santa Cristina, noi andiamo però a giocarci tutte le carte perché se vinciamo domenica riapriamo tutto e sarebbe bellissimo perché diamo un grande segnale soprattutto anche per la città. Boccia paralimpica a Pineto, l'atleta Mauro Piacente dell'Apis Campobasso ha vinto la gara individuale nazionale di specialità. Piacente in finale ha battuto Leonardo Farina della Corona Ferrea Monza. Calcio a 5 di Serie B nell'ultima gara interna della stagione. Lo Sporting ha centrato la terza vittoria in campionato a spese del Latina. Ne abbiamo parlato con il coach. Mister Andrea Pietrunti, l'ultima casalinga, le chiedo una disamina su questa partita. Abbiamo chiuso secondo me nel migliore dei modi al di là del risultato come prestazione. Cosa che devo dire la verità non è mancata anche durante tutta la stagione. Siamo stati un po' attanelanti tra il primo e il secondo tempo, quello sì. Però i ragazzi si vedevano che volevano vincere, salutare la categoria in casa con un risultato positivo. Abbiamo messo tutto, qualità di gioco, cattiveria, agonismo. E quindi sono contentissimo soprattutto per loro perché finire un campionato con questo entusiasmo, con questa voglia di fare allenamento e di approcciare le partite in questa maniera, diciamo che vada a memoria ci sono stati pochi gruppi che ho allenato ma che ho anche avuto il piacere di giocare. Quindi sono contentissimo per loro. Cambia poco ai fini purtroppo della nostra classifica, però ripeto, finire anche in doppia cifra, la vittoria davanti al nostro pubblico in casa ci dà merito a una stagione, secondo me è un po' sfortunata al netto anche comunque dei nostri errori. Ecco, arrivati quasi al termine di questo campionato, manca una sola partita. Possiamo anche estelare un bilancio, insomma, su quella che è stata dando uno sguardo a tutto il campionato, quella che è stata la stagione. Sì, diciamo che fondamentalmente è stata una stagione dove possiamo analizzare tanto ma che posso dire in tutta onestà che la classifica è un po' bugiarda. A volte c'è una delle stagioni che ti dice veramente in tutti gli episodi bene, quest'anno a noi ci ha detto tutto tutto male, a differenza del Colleferro dove abbiamo soffritto di un errore del portiere che ci ha permesso poi di vincere la partita. È stato un episodio su 20 partite, secondo me è poco se ti devi salvare e soprattutto ti dà morale poi per le altre partite. Però ora non è più tempo di piangerci al dorso, prendiamo atto di quello di buono e di tanto che è stato fatto durante la stagione, cerchiamo di capire dove abbiamo sbagliato e cercheremo di riapprocciarci in maniera migliore sperando di essere di nuovo in Vila l'anno prossimo. Calcio di promozione, quinta vittoria consecutiva per la capolista Baranello che non ha lasciato scampo ad un generoso Forulum. Tarlo Colalillo, per il Baranello successo fondamentale, per te ritorno al gol, giornata sicuramente importante. C'è una giornata veramente positiva, abbiamo ottenuto una vittoria che era importante e fondamentale per il nostro cammino. Adesso siamo lì a quattro partite dalla fine con due scontri diretti che dobbiamo andare a Montenero a giocarcela per i tre punti e vincere. Poi abbiamo quella con Berano in casa. Io finalmente sono tornato al gol, quest'anno per me è un'annata un po' difficile sotto questo punto di vista, però l'importante è lavorare per la squadra. A proposito, hai lavorato tanto e bene per la squadra, lavoro sporco come si dice, soprattutto nel momento di sofferenza. Sì, veramente ho fatto una battaglia come sempre. Io a questa maglia ci tengo dopo tanti anni che sono qui, quindi per me è il minimo, è sempre un onore dare il massimo per il Baranello. Adesso per tutta questa gente che viene al campo a vedere le partite dobbiamo regalargli questa soddisfazione. Diciamo che non è stata una partita bellissima da parte vostra, nel secondo tempo forse un po' il caldo ha influito sulla prestazione. Allora abbiamo fatto un buon primo tempo con un bel ritmo, mentre nel secondo tempo siamo entrati un po' molli, ma questo è anche merito dell'avversario che ha avuto un ritmo molto elevato, nonostante il caldo, hanno trovato quel gol a 20 minuti dalla fine, un po' ci hanno messo in difficoltà, un po' abbiamo sofferto. Però da grande squadra l'abbiamo portata a casa e questo era l'importante. Cammino ancora lungo, rush finale, quattro gare tutte di grande valenza, ci arrivate nel migliore dei modi. Sì, ci arriviamo bene, però fino adesso non abbiamo fatto niente. Adesso sono quattro partite troppo importanti perché non possiamo rovinare quello che abbiamo fatto di buono finora. Adesso dobbiamo essere umili, dobbiamo lavorare, dobbiamo giocare partita dopo partita e dare il massimo e cercare di chiudere il prima possibile questa pratica. Tennis in carrozzina è in programma nel prossimo weekend, il sesto torneo Tappa Circuito Nazionale, evento organizzato dall'ASD Urban Sport. Le cani inizieranno le 15 sui campi dell'AT Campobasso, un appuntamento di rilevanza non solo sportiva. Scendiamo in seconda categoria. Nel girone C i Sanniti, battendo 2-1 il Tufara nello scontro diretto al vertice, hanno festeggiato con una giornata d'anticipo la vittoria del campionato. Per la squadra di De Libero sono andati in rete Amorosa e Miele. Di Fabio Ruggero il gol della bandiera per gli ospiti. Al termine grande festa per un successo ottenuto grazie ad un ottimo rolino di marcia, fatto di 15 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta. Domenica, ultima fatica stagionale. Lombardi e compagni saranno di scena a San Marco. La Catola, complimenti naturalmente ai Sanniti, anche alla Presidente Angela Baranello. Ed ora vediamo le grafiche proprio di seconda categoria. Ventunesima giornata nel girone A di seconda categoria. Fornelli, Carovilli 0-0, Limpicchisernia, Rea Rioniero 3-1, Pescolanciano, Montenero 3-3, Pettoranello, Vairanese 5-4, Sant'Angiolese, Monte Roduni 0-5, Castelpetroso, Donchissagnone 2-0. 50 punti per il Monte Roduni, 46 Montenero, 38 Carovilli e Olimpichisernia, 35 per Pescolanzano, 34 Sant'Angiolese e Vairanese, 30 per Fornelli, 25 Castelpetroso, 21 Pettoranello, 4 punti per Donchissagnone, chiude la classifica, Rea Rioniero a 3 punti. Scendiamo nel girone B, Oratino, San Giuliano 1-2, Fessina, Lentesconium, Polisportiva Civitate 1-14, Fossaltese, Torella 2-1, Protermoli, Vinchiaturo 3-4, Sant'Angelo, Ripapottoni 1-6, Spas, Salcito 7-1. Vinchiaturo 57 punti, Polisportiva Civitate 41, Protermoli 37, Torella 33, Spas, 32, Fossaltese 31, San Giuliano 29, Salcito 20, Ripapottoni 19, Oratino 9, Sant'Angelo 0 punti per Fessina, Lentesconium. Scendiamo nel girone Citi, Fersagno, San Marco e Lacatola 5-1, Fiamma Folgo, L'Eccellenza 0-1, Oronero Black & Gold, Hermes Toro 2-3, Rosseto Sant'Elliana 4-1, Saniti Calcio Campo Basso, Tufara 2-1. 48 punti per Saniti Calcio Campo Basso, 42 Tufara, 41 Roseto, 38 Celenza, 31 Campo di Pietra, 24 Sant'Elliana 18, Fiamma Folgo, L'Eccellenza 14, San Marco e Lacatola, Tifer Sannio 13, Hermes Toro, 3 punti per Oronero Black & Gold. Bene, è tutto, buon pomeriggio. Come on! Grazie a tutti.